Buon pomeriggio a tutti, è il 12 settembre, sono le ore 17, sono riuscito a trovare il tempo per questa diretta nonostante appunto i lavori parlamentari, tra l'altro so che tra poco sarà in diretta anche Matteo Renzi quindi cerchiamo di non sovrapporci e quindi di fare le cose uno alla volta per cui cercherò di essere il più succinto possibile come al solito vi chiedo di condividere questa diretta, se non riuscite a vederla appunto mentre andiamo online poi naturalmente il video resterà sul mio sito www.ivanscalfarotto.it, su questa pagina facebook e sul canale youtube tre cose da dirvi soprattutto quest'oggi, la prima è che il Movimento 5 Stelle col Ministro Fraccaro oggi è venuto in aula a mettere la fiducia sul decreto milleproroghi, sapete il decreto che contiene anche la norma sui vaccini e il decreto che contiene la norma che toglie i fondi sulle periferie che erano state stanziate dai nostri governi avevano detto che non avrebbero messo la fiducia o che avrebbero ridotto i voti di fiducia invece sono venuti a mettere la fiducia ma soprattutto quello che è successo è che il Ministro Fraccaro è venuto in aula a appunto apporre la questione di fiducia su questo provvedimento e abbiamo scoperto in aula che il governo ha dato, mandato a Fraccaro di chiedere la fiducia addirittura il 24 di luglio, il che crea dei punti di domanda il primo è, si decide già dal 24 di luglio che il decreto appena nato non deve subire un dibattito debba essere approvato con il voto di fiducia quindi figuriamoci, neanche si sapeva come sarebbe venuto fuori dalla discussione parlamentare e già avevano deciso di mettere la fiducia ma soprattutto il 24 luglio quando dicono a Fraccaro guarda puoi mettere la fiducia su questo provvedimento, il provvedimento non esisteva ancora perché il decreto mille proroghe, cosiddetto mille proroghe e finisce in gazzetta ufficiale, quindi firmato dal Presidente della Repubblica e diventa efficace solo il 25 di luglio quindi il 24 luglio dicono a Fraccaro metti la fiducia su un provvedimento che ancora non esiste ancora deve essere vagliato dal Presidente della Repubblica ancora deve andare a finire in gazzetta ufficiale questo dimostra anche il modo in cui si trattano le regole in modo in cui si rispetta il Parlamento Fraccaro è il teorico dei referendum della democrazia diretta della sovranità popolare e viene a mettere la questione di fiducia che il Governo gli ha dato prima ancora che il provvedimento nascesse quindi oggi abbiamo occupato l'Aula abbiamo sottolineato in tutti i modi, in tutte le salse che questo è un atto sostanzialmente illegale e per di più politicamente insostenibile perché vuol dire che loro su questo provvedimento sapevano sin dal principio di non voler affrontare una discussione e ripeto gli argomenti erano importanti i vaccini, il piano periferie le elezioni nelle province c'erano delle cose sostanziose ma loro l'avevano già deciso dall'inizio nessuna discussione, nessun emendamento voto di fiducia addirittura prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale questo non ci stupisce, è il Movimento 5 Stelle amici miei seconda cosa, una buona notizia invece è che il Parlamento Europeo oggi ha votato con una maggioranza molto molto importante contro l'Ungheria di Orbán quindi il Parlamento Europeo ha dato mandato diciamo all'Unione Europea al Consiglio dei Ministri di verificare se l'Ungheria non stia violando i principi fondativi dell'Unione Europea lo Stato di diritto, la democrazia il rispetto delle minoranze sapete che Orbán stesso, il primo ministro ungherese parla dell'Ungheria come una democrazia illiberale quindi una democrazia nel quale non c'è appunto rispetto della libertà di stampa non c'è appunto rispetto per le opposizioni è una democrazia quindi diciamo così nominale perché è appunto basata su un voto plebiscitario di una maggioranza degli ungheresi ma quella maggioranza degli ungheresi diciamo così può comprimere i diritti di chi non la pensa ugualmente quindi appunto non si tratta di una democrazia liberale questo è secondo me un voto sacrosanto da parte del Parlamento Europeo per una questione oltre che sostanziale anche per una questione logica perché naturalmente dovete sapere che per entrare nell'Unione Europea tu devi rispettare alcuni requisiti importanti uno dei quali è che ci sia una vera democrazia che ci sia lo Stato di diritto che ci siano tutte le libertà che fanno la democrazia tale e per cui se l'Ungheria oggi avesse voluto diciamo entrare nell'Unione Europea probabilmente le sarebbe stato detto di no che non aveva i requisiti allora è strano che se tu certi requisiti li hai all'ingresso dell'Unione Europea ma poi li perdi strada facendo che questo non comporti delle conseguenze e quindi questa è stata la decisione che ha preso il Parlamento Europeo adesso la palla passa al Consiglio dei Ministri cioè alla riunione dei Presidenti del Consiglio dei Capi di Governo e di Stato di tutti e 28 i Paesi ora la domanda è posto che al Parlamento Europeo 5 Stelle e Lega si sono divise perché la Lega con Forza Italia ha votato a sostegno di Orban mentre invece il Movimento 5 Stelle ha votato contro la domanda è che cosa farà il Governo cosa farà Conte quando dovrà andare a discutere di questa questione dato che il Parlamento Europeo ha avviato la procedura Conte si schiererà con Salvini o si schiererà con Di Maio che cosa farà il Governo quale sarà la loro posizione chiederemo a Conte di venircelo a dire in aula e naturalmente vi aggiornerò però è interessante vedere che su questo tema c'è stata un'ennesima frattura tra le forze di governo molte sono sotto il pelo dell'acqua tipo quelle relative a flat tax il reddito di cittadinanza ma questa è evidente e quindi vorremmo veramente sapere dal Presidente del Consiglio che cosa deciderà di fare ultimo argomento il senatore Pilon Simone Pilon è un senatore della Lega Nord della Lega anzi chiedo scusa non bisogna più dire Nord perché ormai è Lega ma anche se sempre Nord è secondo me io non dimentico di quando dicevano peste e corno delle persone diciamo del sud Italia ma loro hanno passato come dire uno straccio per dimenticare ma noi non dimentichiamo comunque questo senatore Pilon è un senatore del Family Day uno degli organizzatori del Family Day ha tra l'altro presentato una proposta di legge di cui sicuramente vi parlerò nelle prossime giornate che è una proposta di legge sulle coppie separate e in particolare sulla gestione dei figli molto penalizzante per le madri molto penalizzante per le madri ma non è appunto dell'argomento che volevo toccare oggi volevo raccontarvi invece che questo Pilon appunto all'interno di una più ampia intervista fatta alla stampa ha detto che lui vorrebbe abrogare le unioni civili ora io vorrei dire al senatore Pilon e glielo ho detto su Twitter ma glielo ripeto in questa sede di toglierselo dalla testa perché? perché la legge sulle unioni civili è vero che il Parlamento italiano l'ha fatta e anche con grande ritardo però finalmente l'ha fatta ma quando la legge non c'era la Corte Costituzionale aveva almeno per due volte diciamo ammonito il Parlamento a produrre questa legge dicendo che nel nostro ordinamento costituzionale era necessaria una legge che regolamentasse i rapporti affettivi e familiari delle coppie omosessuali quindi la Corte Costituzionale riteneva ritiene che quella legge sia una legge costituzionalmente necessaria se il senatore Pilon volesse abrogarla probabilmente l'atto il provvedimento legislativo di abrogazione sarebbe esso stesso incostituzionale ma voglio anche ricordare che la Corte Europea dei diritti dell'uomo anche condannò l'Italia per l'assenza di questa legge quindi Pilon e tutti i suoi amici della Lega e anche Orban e la sua democrazia illiberale dovrebbero ricordarsi che questa è ancora una democrazia liberale dove c'è una Costituzione che sicuramente garantisce alle maggioranze di legiferare di prendere le proprie decisioni ma non di farlo in spregio ai diritti fondamentali delle persone anche quando le persone sono minoranze anche minoranze piccolissime anche il singolo ha dei diritti individuali che lo Stato non può comprimere perché vedete l'essenza della democrazia è proprio questo sapete che l'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo e questo è vero ma dice anche che il popolo l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione la maggioranza deve avere la possibilità di decidere ma deve avere un limite che sta nei diritti della persona nei diritti individuali dei singoli e nei diritti delle minoranze perché una democrazia è tale soltanto quando non c'è la dittatura della maggioranza quindi il senatore Piloni i suoi amici Salvini e company devono toglierselo dalla testa per il momento questa resta una democrazia e noi faremo di tutto ma davvero di tutto perché questa resta una democrazia e per difendere i valori di libertà che grazie al cielo della resistenza hanno fatto di questo paese il meraviglioso paese che tutti quanti noi amiamo che siamo decisi a difendere e so di parlare anche a nome vostro mi fermo qui vi ricordo che Matteo Renzi sta per andare in diretta se non ha già cominciato sta per farlo tra pochi istanti quindi vi invito a passare dall'altra parte vi invito anche a condividere questo video e l'appuntamento per domani non sono ancora in grado di definirlo perché domani appunto voteremo la fiducia sul decreto mille proroghe quindi non so bene a che ora potrò essere in diretta ma come sapete farò di tutto per potervi vedere per poter anzi potermi far vedere da voi e poter intrattenervi sui fatti del giorno come facciamo tutti i giorni allora a domani è un'ora che vedremo e buona visione di Renzi ciao a domani